La morte negli occhi Bravo Matteo! Occhio però, porcaccio quello! Semplice, dai forza! Bravo Marco Pesante secondo me Oh! Giochiamo, non discutiamo! 3 a 2 per loro Pesante secondo me L'hanno segnato prima Oh! Dobbiamo starci Pesante secondo me No Piero Fallo! Occhio eh! Pesante secondo me Sì! Bravo! 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 Dai eh! Vieni! Vieni! Che cosa è? Vieni! 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 Angolo. Dai, eh. Io ci sto. Bravo, Piero. Sì! Tornerà! Contro devi porre, venga, che sono i gatti! Ecco, ecco, ecco. Guarda, gioca, gioca, è buono! Se vai, che vuoi? No, cazzo, ma ci hai deciso questa palla, devi stare tu le gambe! Che fai a giocare così? Aspetta, eh! Vai, vai! Tieni tu! Ti tira! Aspetta, tira lui! Oh, oh! Oh, no! Oh, come... Come cazzo si serve? Callu! Io so 8 video che fasce non mi serve però, porco di... Eh! Basta, spingne questo! Eh! Eh! Sto... Laterale! Sì! Nei vigore, eh! Vai, usci te! Vai, usci te! Sì! 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 Sono attima di posa! Che cosa? Noi ci si fai messa da un minuto! Vai! Voi te dà un minuto, vai! Sì! Voi! Aici si rossa! Voi si conoscere! Oh! Chi si lala c'era il mio pezzo! Era il mio pezzo, non c'era il mio pezzo, non c'era il mio pezzo! Grazie a tutti. 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 Grazie.